si va avanti dai si va avanti si va avanti mi fanno vomitare certe cose ma si va avanti ragazzi non mi ha detto che io debba piacere a tutti lo dio lo dio scusate gioco di parole per quello che sto per dire poi magari a tanti piace quello che sto per dire ma quando vai a intervistare i cinesi te gli devi chiedere voi che fate i giornalisti quando lo intervistate perché poi dopo alla fine arrivano le mazzate dall'America perché ora ragazzi è finito tutto che si fa? che si fa? ve lo starete chiedendo tutti sui social non lo vedo ve lo state chiedendo tutti che si fa ora? si riva a giro con il piattino a chiedere i prestiti a rinnovare ai quarantenni che si fa? che si fa? si riaffronta una stagione a giocatori fino a quarant'anni si rinnova ai trentacinquenni che si fa? ve lo state chiedendo tutti grazie ad una grande Champions vogliamo mettere la polvere sotto il tappeto no non si può mettere Zangro non può più rimanere è inutile se ne deve andare lui deve andare via deve lasciare però lui parla di rifinanziamento ma lo capisco non può dire sì a ragione New York Times ma un giornalista uno uno io ho mai chiamato i giornalai mai fatto di tutta un'erba o un fascio ho sempre avuto rispetto per chi lavora a differenza di chi chiede i soldi ai forzi dell'Inter per sparare le cazzate ma una domanda scusi signor Presidente la situazione economica dell'Inter no? è distruttiva lo sanno tutti Presidente quali sono le strategie? avete mai sentito a fare questa domanda? no non gliel'hanno fatta la sua passarellina si è messo si è messo in vestito della comunione ha fatto la sua passarellina e comunque Inter e Biciampione d'Europa ragazzi su questo tanta roba non ci piove caro Presidente quali sono i programmi di investimento? le intenzioni della governance quali sono? Presidente ma come fate ad andare avanti? chi è che garantisce per tutte queste passività? che accumulate day after day Presidente? queste domande non gliele fanno tra l'altro come fa un Presidente nulla tenente a chiedere un rifinanziamento di un prestito per pagare con un debito o l'altro debito? queste domande non gliele fanno lo capisci che c'è qualcosa che non va ok mille proroghe tutto quello che ti pare quello che c'è stato fino ad ora che che ha fatto sì che lui non saltasse perare a lui o l'Inter perché il prestito di Zhang il prestito l'ha fatto per l'Inter ma cosa state dicendo ragazzi? il prestito l'ha fatto per l'Inter i soldi sono usati per l'Inter le garanzie sono dell'Inter ma qualcosa che garantisca la sostenibilità di questa azienda ce la potete far vedere chi è che garantisce la sostenibilità dell'Inter? come fai a garantire Zhang la sostenibilità dell'Inter? ce lo fai l'hai garantita fino ad ottobre 2023 ok ma già ora ci fai vedere come puoi garantire un'altra stagione caro Zhang visto che parli di finanziare un debito per pagarci l'altro debito allora voi lo capite e c'è qualcosa che non va lo capisci benissimo no? perché poi lui decide fino a un certo punto io la mia idea non cambia la proprietà cambia subito poi lo vedremo se non cambia se non cambia secondo me deve deve cambiare subito perché se non cambia subito poi dopo ci spiegheranno come fanno ad andare avanti e come fanno soprattutto a garantire la sostenibilità ora quelli del CDA dell'Inter non sono matti che le CDA dell'Inter non è che metta le firme lo sanno e sicuramente questa è una situazione molto molto periodosa perché ragazzi il debito dell'Inter incomincia a fare rumore a livello mondiale ormai lo dico io per chi si preoccupa delle parole di Zanga perché giuse giuse la mia idea è sempre la stessa e cambia la proprietà e sarà risaudita la crisi di l'Inter io non cambio idea non è che ho cambiato poi intanto ragazzi basta basta aspettare no? questa è un'azienda che va ricapitalizzata non puoi fare più debiti è al collasso economicamente l'Inter non puoi più parlare né di prestiti e né di debiti ma lui lui dopo il grande attacco il grandissimo attacco del New York Times cosa fa? lui non è che dice sistema io pago io è costretto a dire devo richiedere una mano oltre per rifinanziare il debito per pagarci gli interessi dell'altro debito vi rendete conto come è messo questo ora siccome sono già due tre giorni che non fai terrore in tutti i social levati dai coglioni zanga vattene tanto quanto sta a riscopiare lo zanga out qualche settimana si sente parlare del rinnovo di Andanovic rinnovo a Dzeko vuole vendere Onana giù le mani da Onana quanto sta a riscopiare Casino ora? perché? ora vi state risvegliando tutti la Champions League e quello che voglio dire io la Champions League non deve mettere la polvere sotto il tappeto perché questa non è una squadra da cui puoi ripartire questa è una squadra da cui puoi ripartire per 5, 6, 7 undicesimi il resto è tutto da rifare compresa la panchina perché l'Inter non ha panchina la panchina dell'Inter non esiste lui ha raccattato 11 giocatori buoni per fare strada in campionato la finale di Champions è stata una roba inaspettata per tutti da Marotta Ausilio ai cinesi ai giapponesi a tutti questa io te lo dico prima questa è una squadra che ha già dato tutto che si è ricompattata soprattutto grazie ai giocatori che hanno deciso di ricompattarsi e che hanno dato tutto quello che potevano dare non può ripartire da questa squadra questa squadra bisogna dividerla ripartire da 6, 7 giocatori quello deve fare l'Inter mettere dentro due o tre titolari e fare una panchina e servono i soldi e lui quando dice che vuole rifinanziare ci deve spiegare questo Zangio quando te dici che vuole rifinanziare devi spiegare ai tifosi dell'Inter perché tanto a te queste domande non te le fanno forse perché stai gestendo tutto sotto regime non lo so è una mia esposizione ma quando siccome te caro Zangio fai venire i brividi a tutti i tifosi dell'Inter quando ti sentono di parlare di rifinanziamento perché l'anno scorso avete fatto il giochino di Bala Bremer e a giugno c'erano già 80-40 mila abbonati quest'anno i tifosi dell'Inter non li prendete più per il culo ragazzi attenzione quindi caro Zangio quando parli di rifinanziamento abbi rispetto verso i tifosi dell'Inter e visto che la situazione dell'Inter è disastrata caro Zangio perché il New York Times parla circa di un miliardo e tre di debiti caro Zangio quali sono le strategie te lo chiedo io Zangio quali sono le tue strategie Zangio i tuoi programmi di investimento quali sono Zangio quello di continuare vuoi arrivare due miliardi di debiti non ti ci fanno arrivare due miliardi di debiti Zangio ti fanno saltare per aria prima a livello detto in senso figurato ovviamente saltare per aria nel senso che si parla di fallimento come diceva Repubblica quello intendo sottolineiamo bene perché sennò qui qualcuno potrebbe strumentalizzare come puoi garantire la sostenibilità Zangio perché l'hai garantita fino a ottobre 2023 da ottobre 2023 chi la manda avanti questa società Zangio visto che te parli di riparlare di discutere con ottri terrorizzando tutti i tifosi te sei diventato te sei stato l'unico presidente della storia dell'Inter a terrorizzare tutti i tifosi perché tutti i tifosi sono lì con il buchino del sederino stretto perché hanno paura e tu rivada a giro nel piattino quello a zero prestami riprestami c'è una squadra da rifare caro Zangio come intendi mettere dentro sette otto giocatori Zangio perché perché un anno siamo stati tutti buoni poi cosa vuoi fare volevi rinnovare a Onana sì a Onana scusami a Andanovic a Dzeko ai trentasettenni non si rinnova ai trentottenni non si poteva più fare Zangio però quando parli di finanziamento Zangio spiegaci come intendi come fa a sostenersi di questa società di calcio quei decidi a lo sanno ma te dillo se hai visto e parli di rifinanziamento perché te ormai quando apri la bocca terrorizzi tutti i tifosi dell'inter capito è quello il problema te te dovevi doverti dai coglioni due anni fa non ora ragazzi sui social io no ho un terrore allucinante questa è un'azienda che va ricapitalizzata e subito non bisogna più parlare di rifinanziare il primo debito per ripagare gli interessi del secondo debito servono i soldi quindi caro Zang spiegaci come chi è che ti rifinanzi a te dove hai le garanzie cosa vuoi da Uctree spiegacelo Zang perché altrimenti scriviamo a CDA dell'Inter non ci sono problemi perché vedi lo sai ma lei la cosa mi ha fatto incazzare motivo per cui non ho fatto un video per nulla ieri perché ero nero la gioia di una finale di Champions i tifosi dell'Inter una squadra che da tutto una squadra che muore in campo e questo riparla ancora di rifinanziamenti di cosi di debiti di rifinanzio ti devi togliere dai coglioni forse non l'hai avvito anzi avresti dovuto toglierti dai coglioni due anni fa non ora i tifosi dell'Inter sono terrorizzati te non puoi non potevi più andare avanti dirla la verità l'hai fatta la tua bella figura hai fatto le tue passerelle basta l'Inter la dovete lasciare stare non è un gioino l'Inter non te la puoi più permettere Zang l'Inter puoi avere tutti i sordi che ti pare ma all'Inter non te la puoi più permettere e hai rotto i coglioni a creare questo terrore perché già sono tutti terrorizzati ora questo li va al giro un impiattino Giuse sta succedendo Giuse non ti dice sta succedendo Giuse ti dice che se non do Giuse la proprietà cambierà che saranno i sauditi solo loro potevano affrontare una roba del genere manca un anno alla scadenza del prestito vogliamo vedere se Zang regala l'Inter a O3 poi cosa gli regala un debito da un miliardo e sei a O3 Zang quindi O3 per prestare gli 275 milioni praticamente cosa fa riscatta il pegno ma il pegno lo riscatta la Glass Trust che c'è il pegno di primo grado per darlo al compratore in caso ma non succederà parlare ancora di rifinanziare è una vergogna per tutti i tifosi dell'Inter servono i soldi e subito io ve lo ridivo ragazzi questa squadra ha già dato tutto è stata prosciugata puoi ripartire da 5 6 7 elementi e non riscatterei nemmeno Lukaku gli è cambiato il fisico gli è cambiato il metabolismo è un giocatore che vive di sprazzi non è più il Lukaku di due anni fa non sono più operazioni da fare non bisogna rinnovare più ai 37 38 anni servono soldi con le palate vediamo cosa succede nei prossimi giorni vediamo se c'è un altro raddoppio rifinanziamento o se finalmente entrerà la proprietà nuova chi vi va vedrà ciao vinti grazie a tutti grazie a tutti